Le immagini della chiesa e delle opere ricoperte dopo 12 anni dal guano dei piccioni avevano fatto il giro del mondo, sollevando spesso il problema della mancata ricostruzione delle chiese più di 10 nel comune di San Demetrio Nevestini. Ora qualche spiraio per la ricostruzione di una di queste, quella dell'annunziata, si vede. Il degrado e l'abbandono hanno spesso suscitato negli anni l'ira della popolazione ed è nato anche il Comitato San Demetrio Futuro. Dopo 12 anni, grazie all'operazione congiunta tra il nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, diretto in città dal capitano Manuel Curreri, soprintendenza, segretariato e vigili del fuoco, si sono recuperate alcune opere, in salvo quattro tele e tre statue per ora. Tra le tele di maggior valore salvate c'è l'annunciazione di Luigi Velpi del 1730, che era anche una delle più danneggiate. L'edificio ha origini nel 400, anche se l'attuale chiesa si stima del 1600 a opere di assoluto prestigio. Ora quelle recuperate sono al sicuro nei depositi, ma i cittadini chiedono che non siano dimenticate. Negli anni, innumerevoli le segnalazioni, come i tavoli per avviare la ricostruzione. Quest'operazione preliminare di recupero è stata necessaria per iniziare la messa in sicurezza prevista nei prossimi mesi per 300.000 euro. A San Demetrio si è molto parlato della mancata ricostruzione delle chiese in questi anni. Grazie al dossier dell'ingegner Paolo Caporaletti, le responsabilità si può dire che siano diffuse. E c'è stato anche il problema del trasferimento delle risorse del Cipe, fatto sta che il territorio lì non vede ancora una chiesa ricostruita e spesso gli abitanti hanno temuto per le opere all'interno. In questa operazione si evidenzia, se mai ce ne fosse bisogno, l'importanza di aver istituito il nucleo di carabinieri che si occupa del patrimonio culturale proprio in città, una città ricca di storia come il suo territorio e il valore aggiunto della presenza dei carabinieri già si tocca con mano.